La magistratura si è stata lasciata a sola? Beh, questo è quello che passa nelle maggiori tv nazionali. In realtà noi abbiamo sempre sostenuto la magistratura e siamo sempre stati convinti fin dalla perizia chimica che la magistratura stesse facendo un ottimo lavoro. Poi abbiamo avuto la conferma con la perizia epidemiologica e tutto ciò che noi sapevamo da tempo qui a Taranto non è stato fatto altro che è stato confermato semplicemente. E quindi noi non abbiamo mai lasciato sola la magistratura e così come con questo manifesto esprimiamo solidarietà nei confronti dei lavoratori che dovrebbero essere ricollocati in un lavoro sicuramente più pulito in quanto il siderurgico sicuramente non sono gli ambientalisti che la definiscono un'industria insalubre ma è la legge che la definisce così. Quindi così come insalubre per coloro che ci vivono intorno è insalubre anche per coloro che ci lavorano dentro per cui noi sosteniamo gli operai ma siamo totalmente favorevoli alla decisione della magistratura.